Il 2-4 casalingo contro il Francavilla in Signia ha rappresentato per il Bisceglie un doloroso ritorno al recente passato. Un po' che era al passivo per il team di Danilo Rufini era già maturato 17 giorni prima, quando Isco e compagni avevano ceduto per 4-0 al Monterisi contro l'audace Cerignola nel settimo turno della competizione. Un dato in assoluta controtendenza rispetto alle prime sei giornate del girone H di Serie D, quando la porta di Martorelle era stata battuta solo quattro volte tra gli incroci contro Nocerina, Casarano, Gravina, Casertana, Nardò e Lavello. Il K.O. contro i Lucani di Nicola Ragnio ha anche interrotto il filotto di due vittorie messe insieme dai biscegliesi che avevano superato di misura la Mariglianese in casa e la Virtus Matino in trasferta, incamerando sei punti fondamentali per arrivare a quota 12 staccando di un punto la zona play-out. I ragazzi hanno provato a fare con quelle che sono le loro possibilità tutto, non ho niente da rimproverarli se non quelle amnesie sulle quali dovremmo lavorare, però come non eravamo una squadra di fenomeni dopo queste due vittorie, non siamo una squadra di blocchi adesso, ci mettiamo giù, lavoriamo. Perdere 3-1, 4-1 oppure rischiare di provare a pareggiarla, io provo sempre a pareggiarla, quindi siamo stati 3-2, abbiamo sfiorato più volte il gol del pareggio e poi in ripartenza alla fine abbiamo preso il 4-2 sul sforzo sull'ultimo minuto di recupero, quindi Francavilla squadra a forza, squadra costruita per vincere, ha tirato fuori l'esperienza e è stata brava a sfruttare i nostri errori. Negli ultimi giorni di mercato il bisceglie ha ufficializzato gli acquisti di Stefan Nicolic e Walter Cozza. Nicolic è un attaccante montenegrino passato anche per la Steau a Bucarest, dove ha conquistato due campionati rumeni e una Supercoppa, totalizzando anche presenze nei preliminari di Champions League e nella fase a gironi e preliminare di Europa League con tre reti. Rinforzerà la fase offensiva di una squadra sin cui è andata a segno solo sette volte, peggio hanno fatto il San Giorgio a sei e il Brindisi a quattro. Cozza, arrivato dal Giarre, ha collezionato anche 35 presenze in Serie C con la Sicula Leonzio. Rinforzi di esperienza che torneranno utili già alla prossima curva. Ad attendere il bisceglie, domenica ci sarà la trasferta sul campo della capolista Bitonto, reduce dalla prima sconfitta in campionato, per mano del Gravina. I miei partiti sono tutti difficili, battere la Mariglianese, battere il matino a casa sua, non è un'impresa facile, non ci siamo esaltati in quei momenti, noi già imbattiamo in queste partite. Sicuramente, come abbiamo fatto dopo le vittorie, ancora di più andiamo ad analizzare tutti gli errori compiuti, teniamo presente qual è il nostro obiettivo, è normale che quando incontri squadre sulla carta costruite per vincere ci provi.